Mi aspetto innanzitutto una bella gara, una bella partita contro i campioni in carica, che sono i campioni che hanno vinto lo scudetto già con due partite di anticipo. Mi aspetto che la mia squadra giochi con quell'atteggiamento che sanno, che conoscono. Poi dopo chiaramente vincerà la migliore, speriamo che siamo noi, la migliore per la gara. Durante il campionato sicuramente hanno dimostrato loro di essere i migliori in assoluto. Non c'è da nascondere niente. Il calcio è passionalità, è tecnica, è tattica, è agonismo, è determinazione ed è cuore. Io penso che queste sono le componenti importanti, non c'è da nascondere niente. Sono tutte importanti perché comunque danno l'opportunità di misurarti contro i migliori. Questo è un vantaggio per noi perché ci fa capire, ci fa misurare contro i campioni in carica.